Ciao a tutti ragazzi, io sono Manuel e questo è Road to Annihilation. In questa miniserie vi mostrerò dei gameplay live delle nuove mappe presenti nel map pack. Cercherò di gironzolare in giro in modo che possiate vedere più zone possibili e in generale farvi un'idea di come sono per poter decidere se vi farà piacere comprarle oppure no. Ma adesso vi lascio guardare l'episodio. Ciao ragazzi! Ed eccoci infine all'ultima mappa di questa nuova mappa che è la mappa zombie. Shangri-La, un leggendario santuario perso in un'esotica giungla dove i non morti sono inagguati in un pericoloso labirinto fatto di caverne sotterranee, trappole mortali e segreti oscuri. Mamma mia che descrizione... che descrizione fantasmagorica. Ok, facciamo partire dai. Call of Duty, Triarch. Vedremo, vedremo ragazzi, io ve lo dico. Sono piuttosto scarso a zombie, non ci gioco mai. Cercherò di prendere le armi subito invece di tenermi la pistolina perché non voglio morire in modo stupido. Soprattutto considerando che non conosco la mappa. Però sarà difficile capire dove sono le varie armi. Qua si può mandare avanti, perfetto. Perfetto, perfetto. Round 1. All'ubio. Sono talmente annoiato da questo obiettivo che nemmeno mi lamento più. È un grande. È un grande. 1, 2, 3, salta! Ok. Questi muoiono subito. Ok. Dovremo di tenere la pistolina almeno il primo round, dai. Qua resistono. Questo? Diciamo che l'inizio sembra più o meno classico. Che bel posto. È fighissimo. Ok, questo andiamo in una coltellatina. C'è ancora qualcuno vivo? Sì. Mi sembra che hanno lasciato qualcuno, mezzo e mezzo. Andiamo a vedere. Qua ce l'olimpia. Ripariamo, ripariamo, ripariamo. Cosa c'è sto rumore? Sto rumore è inquieto. Ah, ciao. Cosa fai? Zacc. Vuoi morire? Oh, il quickervai. Prendiamolo, dai. Così, magari, le speranze di sopravvivenza aumentano un goccino. C'è sto rumore di scimmie che mi preoccupa. Oh, ciao scimmie. Beh? Cosa succede? Non fa niente? Vabbè. Ci accontenteremo. Ok, qua arrivano i sali. Ok, ripariamo, ripariamo, ripariamo. Tra poco andrò a prendere l'arma perché non ho voglia di rischiare. No, vabbè. Forse il round ce la faccio resistere, ma... Ok. Ok. Ancora questo. Perché mi danno queste trambate ancora prima che... Muori, sacco di vermi! Oh, guarda questo. Muerti tutti. Va bene. C'ho di nuovo una scimietta, sento rumore. Vabbè, andiamo a riparare qua. Poi prendiamo l'M14. Così ho un'arma decente. Ok. Va bene, 1.6. 1.6 potrei tentare di andare da qualche parte. No, resistiamo ancora un round qua. Non ho guardato l'ora a cui ho iniziato. Vabbè. Più o meno. L'importante è fare una decina di minuti. Cosa mai... Cosa mai taglia? Oh, 2x. Ok. Wow. Mamma mia. Questa scimietta? Oddio. Ok. Wow. Che cavolo... Questa mappa... Questa mappa è una gran figata, ragazzi. Beh, dai. Oh, che rischio. Oh, teschio. Vai in giro a coltellare. Coltellate, coltellate, coltellate. La trappola mi... Mi spaventa di brutto. Basta, non c'è più nessuno? No. Madonna. Come... Hai... Dai. Cazzo, cazzo, cazzo. Non posso morire qua. Devo morire qua. Porca vacca. Sta trappola... Eh... Tremenda. Andiamo di... E qua c'ho paura che mi caschino... Il murio adesso. Perché si muove lentissimo? Questo cos'è? Qua si... Si può solo camminare qua. Dai. Oh. Oh, ok. Luce. Lampadina, lampadina, lampadina. Quanto tempo è che sto andando? Non lo so. Vabbè. Più o meno. Facciamo... Cinque minuti? Dai, ancora cinque. Wow. Qua? Ciao. Tu. Ah, di là c'è l'elettricità. Quindi potrei... Tentare di andare verso di là. Là c'è un gong. Ci sono gong dappertutto. Sono sicuro che saranno... Saranno di qualche easter egg. Qualcosa di attivabile. Quel filo lì. Mi sembra già figo. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. È mio. No, non si può andare. Beh? Pochi colpi ha quest'arma. Ok. Headshot. 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 No. Vado a cercare gli headshot, ma... Qua? Sono questi qua con la maschera antigasca. Non ho capito bene cosa c'entrano. Sono un po'... Misterioso. No, non mi stuprate. Ma... Hanno più vita questi. Dai, 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 dai. Scappa, scappa, scappa. Ah! Ok. Non c'è un sacco di punti. Potrei esplorare. No, questo cosa mi... Mi dà del tramvate ancora. Non ci credo. Ma quanto è rimasto vivo questo? Aspettiamo che arrivino. Calcio, questo è rimasto vivo... Dieci ore. Si torna ai calci in culo. Cosa dice? Questa prendo questa? Così quasi. Dai, prendiamo. Ah! Oddio. Figo. Qua dietro? Uh, la cassa. Regalami una gioia. Regalami una gioia. Anche qua ti muovi al rallentatore. La balestra. Questa sarà la cosa più divertente. Ok. Morirò in modo stupido per questa balestra. Lo so già. E muoviamo anche queste macerie. Ok. Wow, stake out. No, ma che figa è sta mappa. C'è pieno di posti. Ok, questo? Elettricità? No. Questo cos'è? Double tap. Double tap non mi piace per niente. Questo? Cos'è sta roba? Che figo. Va bene. Così può smontare? 1.250 ce li ho. Potrei anche aprire. Tanto colpi ce ne ho. Ho la balestra. E la balestra lo sappiamo bene che... Sappiamo bene che la balestra mi aiuterà a morire in modo stupido e basta. Vai, vai. Sfondiamo. Apriamo tutto. Andiamo dall'elettricità. Sento che è qua. Dai. Dov'è? Qua? Ok, dai. Voglio arrivare... Ehi, la... Per far uscire l'acqua c'era scritto. Oddio. Dimmi che non mi arriva... Oh. Ah, l'elettricità è... Tipo dinamo. Oh, proiettili grandi. Oddio. Sentite il rumore di scimmio? Io lo sento. Madonna. Queste scimmiette mi inquietano. Prima devi azionare l'interruttore, ma l'ho azionato. Ah, c'è anche questo. Ah, è doppio. Ma che figata. Non so se sarò costretta a tagliare tutto questo, però... Ok. Ok. Ho finito il round. So già che ora mi arriverà la bolgia di... Oh, l'interruttore adesso è acceso. Mi serve il juggernaut. L'avete visto voi? Io non l'ho visto. Juggernaut. Di qua? Di qua non mi pare. Ok, questo c'è il... Dai Kiri, che non mi ricordo cosa fa. Era quello nuovo. Il Bowie Knife. Ok, ok. Scappiamo di qua. Da qua ero... Ero arrivato da qua. Che bello. La musichina. Ok, 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 ok. Va bene, ragazzi. Mi sa che... A breve dovrò tagliare. Se non vi saluto è perché... Mi sono accorto che il filmante era troppo lungo e l'ho dovuto tagliare. Però purtroppo zombie sapevo che andava a finire così. Comunque sembra divertente. Ah, non mi uccidete. No! Ecco. Va bene, dai. Game over. Eh, simpatica questa cosa. Ah, guarda lì sopra. Non l'avevo visto il coso. Ma non c'era prima. Il... Pack-a-Punch. Pensate. Giuro che non c'era. Va bene. Dai ragazzi, ciao a tutti.